ecco qua partiamo con la prima piastella abbiamo fatto lo stato di colla è uno stato di colla quando una piastella è così lunga uno stato di colla anche sotto la piastella è importante in modo che attacca perfettamente e dobbiamo partire dalla nostra guida che è il nostro filo come vedete il nostro operatore che sta facendo vedete ecco qua questo qua è un pavimento a correre come abbiamo detto nel video precedente abbiamo scelto di modificare una piastella intera quindi sotto al muro abbiamo tagliato la piastella metteremo una piastella intera rettificata in base allo fuori squadro che avevamo e poi questa qua che partiamo dalla guida è circa la metà i pezzi sono come vi tornano comodo così ve li fate facciamo vedere nei prossimi video come giostare questo pavimento a correre